Siamo allo stand GT per vedere l'offerta questo marchio per quanto riguarda sempre la categoria del Cross Country Marathon, ovviamente la proposta più racing di GT Bicycle è la Zaskar con ruote da 29 pollici, in questo caso con telaio full carbon realizzato con la tecnologia proprietaria GT Force Optimized Carbon, è un telaio estremamente performante e leggero, il carattere distintivo di questa bici è il tripo triangolo che caratterizza tutte le front suspension GT, il tripo triangolo è un design del carro posteriore che permette di avere un carro molto compatto e questo migliora tantissimo le prestazioni in termini di scatto e reattività della bici, tra l'altro abbinate alle ruote da 29 valorizzano al massimo le prestazioni del mezzo. Parlando della componentistica, questo mezzo è il top di gamma, quindi l'allestimento team equipaggiato con componenti altissimo di gamma che portano il peso della bici totale a 10 kg, questo per un prezzo al pubblico di 6.000 euro, abbiamo un gruppo XTR, quindi cambio posteriore XTR abbinato ad una guarnitura Race Face Next in carbonio con rapporti 26-38 e freni Formula R1. Alla fine questa componentistica appunto fa della bici l'offerta di GT per le gare Cross Country, Grand Fond e Marathon pedalate proprio al massimo livello. Volendo acquistare però lo stesso telaio su assemblaggi anche minori, diciamo che è disponibile per una serie di prezzi fino ad arrivare anche un allestimento base che è l'ingresso del mondo Zaskar 29 in carbonio a 2.300 euro.